A Genova e nella gara a Corchievo hai giocato da titolare dopo un inizio di stagione in panchina, due prove positive per te, ti ricandidi ad essere titolare anche nella gara con la Sampdoria? Sono contento delle mie prestazioni, delle prestazioni della squadra, io come dico sempre mi impegnerò sempre al massimo, tutti gli allenamenti mi strapperò i capelli per dare il massimo per questa squadra e poi le decisioni spettano comunque al mister, io comunque ce la metto tutta. Come si può spiegare questo periodo non proprio brillantissimo del Pescara oltre che sotto l'aspetto dei risultati anche dal punto di vista del gioco? Nel gioco secondo me anche col Chievo abbiamo espresso del buon gioco, poi la Serie A è questa, è ancora più difficile della Serie B, dobbiamo migliorare su ogni aspetto, dobbiamo essere più concentrati, più cattivi, più come lo è stato il Chievo, il Chievo secondo me è una squadra che ha un gruppo devastante, sono tutti uniti, concentrati, esperti e forse è quello che ci manca un po' a noi, però piano piano troveremo la quadratura giusta. Pesa anche sotto l'aspetto psicologico a proposito di mancanze questa prima vittoria sul campo che ancora arriva? Secondo me non ci deve pesare, nel senso che noi sappiamo quello che dobbiamo fare e dobbiamo stare tranquilli, l'obiettivo è la salvezza e secondo me se continuiamo a allenarci così a 2000 come facciamo tutti i giorni ne usciremo presto e ci toglieremo belle soddisfazioni.